Eda scopre che Serkan ha un tumore al cervello, nel finale della prima stagione di Love is in the Air. Una volta che Serkan recupera la memoria, tornerà ad essere l'uomo meraviglioso che Eda si era innamorata. I due torneranno alla loro vita, però la felicità per Eda e Serkan non durerà a lungo. L'architetto purtroppo scopre che ha un tumore al cervello. Tuttavia Bolat terrà questa malattia in segreto e non dirà niente ad Eda. Serkan inizierà a comportarsi in modo strano e vorrà fare tutto quello che non aveva mai fatto prima. Lui e Eda partiranno con un Arlotti per un viaggio romantico. Eda inizierà a sospettare dell'atteggiamento di Serkan. Purtroppo Eda scopre che i suoi sospetti hanno un senso. Il comportamento di Serkan e il bisogno di fare cose che non gli sono mai nemmeno passati per la mente hanno una ragione. C'era qualcosa che la paesaggista aveva già capito. Perché lo stiamo facendo? Guardami, mi nascondi qualcosa? Lo dice all'uomo d'affari che ancora una volta gli mente guardandola negli occhi. Ho ripensato alle mie priorità e ho capito che in tutti questi anni ho sbagliato. Tutto quello che voglio è vivere la vita e voglio farlo al tuo fianco. Tuttavia le bugie di Serkan verranno alla luce durante la loro vacanza romantica. Eda trova la cartella clinica dell'architetto dove si capisce bene che l'uomo ha un tumore al cervello. Inutile dire che Eda sarà sconvolta e andrà subito da Bolat per chiedere spiegazioni. Cosa è questo? Questa sarà la fine drammatica della prima stagione. Cosa accadrà da qui in poi? Riuscirà l'imprenditore a spiegare i motivi per cui ha nascosto alla fidanzata la sua grave malattia? Per fortuna sappiamo già che nel corso della seconda stagione i nostri protagonisti torneranno ad essere la bellissima coppia per la quale ci siamo affezionati. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere altri video della vostra serie preferita, scriviti al canale.